Musica Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La prima commissione ha approvato l'assestamento del bilancio 2016-2018. Alla riunione ha preso parte la Presidente della Giunta regionale Marini che ha illustrato gli emendamenti della Giunta. David Mariotti Bianchi La prima commissione consigliare presieduta da Andrea Smacchi ha approvato a maggioranza con i voti favorevoli di Guasticchi, Chiacchieroni, Casciari, Leonelli e Smacchi del PD e quelli contrari di Carbonari, Movimento 5 Stelle e Nevi Forza Italia l'assestamento del bilancio di previsione 2016-2018 che verrà discusso in aula martedì prossimo. Il relatore di maggioranza sarà Andrea Smacchi del PD mentre per le minoranze ci saranno le relazioni di Maria Grazia Carbonari, Movimento 5 Stelle e Raffaele Nevi Forza Italia. La commissione ha approvato tutti gli emendamenti presentati dalla Giunta e illustrati dalla Presidente Catiuscia Marini mentre quelli dei commissari al termine della discussione sono stati ritirati. Grazie agli emendamenti dell'esecutivo di Palazzo Donini 100.000 euro vanno a iniziative culturali e regionali di particolare rilievo come la Sagra Musicale Umbra e il cofinanziamento di una mostra della Galleria Nazionale dell'Umbria. 30.000 euro per aiutare la Corte d'Appello di Perugia nello smaltimento delle pratiche. 40.000 euro per il sisma del 30 maggio 2016 che ha colpito Castelgiorgio altri 30.000 euro per la visita del Papa ad Assisi del 4 agosto prossimo 100.000 euro vengono destinati alla programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali mentre 50.000 euro sono per la partecipazione a fiere e manifestazioni nel settore agroalimentare Infine 20.000 euro vengono utilizzati per sostenere le associazioni degli emigrati Umbri. E' sempre la prima commissione la stessa seduta ha approvato a maggioranza con la sola astensione del Movimento 5 Stelle il rendiconto dell'Assemblea Legislativa per l'esercizio finanziario 2015 a seguire la commissione ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dell'opposizione il rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2015 in aula il presidente Smacchi sarà relatore di maggioranza mentre per la minoranza ci saranno le due relazioni di Nevi Forza Italia e Carbonari Movimento 5 Stelle In seconda commissione si è parlato di Amianto ascoltati a Palazzo Cesaroni il direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro Pennesi ed il presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto Bonanni il servizio Una riflessione attenta su una questione che riguarda molti lavoratori umbri esclusi da benefici e risarcimenti a differenza di quanto previsto in altre realtà in Umbria sono stati rilevati 137 siti pubblici da bonificare obiettivo una legge regionale per implementare le attuali normative nazionali dal punto di vista industriale le tre aree di concentrazione di amianto nei posti di lavoro più importanti sono le officine grandi riparazioni di Foligno la Tissen Group di Terni e la SGL Carbon di Narni Sono alcuni passaggi emersi dall'audizione in seconda commissione presieduta da Erosbrega relativamente al tema riguardante la presenza di amianto all'interno degli stabilimenti Tissen Group di Terni e SGL Carbon di Narni questione sollecitata da una interrogazione dei consiglieri liberati e carbonari del Movimento 5 Stelle e alla quale hanno preso parte tra gli altri Massimo Pennesi, direttore ispettorato nazionale del lavoro e Ezio Bonanni, presidente dell'osservatorio nazionale a Mianto Pennesi ha assicurato che negli ultimi mesi a livello nazionale c'è stata una ripresa del contatto con le istituzioni governative su questo tema grazie alla forte spinta delle associazioni è stato costituito un comitato interistituzionale composto da tutte le amministrazioni ed allargato al coordinamento tecnico delle regioni e ad altre rappresentanze Bonanni ha rimarcato come di fatto l'Umbria sia stata discriminata per scelta politica e sindacale rispetto ad altre regioni il Ministero del Lavoro e il Ministro hanno l'obbligo giuridico ha detto Bonanni, oltre che il dovere morale di trattare tutti i lavoratori allo stesso modo sia per quanto riguarda la tutela della salute che pensionistica affermare che nella Tissen di Torino c'è stato amianto fino al 2003 mentre in quella di Terni fino al 92 significa anche sottrarre i lavoratori la prevenzione è farli lavorare ancora molti anni e ha concluso Bonanni su luoghi di lavoro esposti all'amianto al termine della seduta è stato deciso di dar luogo sin alla prossima settimana ad una serie di audizioni con tutti i soggetti interessati alla materia a partire da quelli istituzionali L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha eletto con 11 voti Marco Mazzoni nuovo presidente del Comitato regionale per le comunicazioni, Corecom la candidatura del neoeletto era stata avanzata dalla presidente dell'Assemblea Donatella Porsi secondo quanto previsto dalla normativa l'elezione è avvenuta la quarta votazione quando era sufficiente la maggioranza Marco Mazzoni succede nella carica a Gabriella Meccucci L'assessore all'agricoltura Cecchini ha ascoltato nella riunione del Comitato di monitoraggio e vigilanza sulle misure da intraprendere per la riduzione dei danni causati dalla fauna selvatica il servizio di Marco Paganini Il Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale preseduto da Raffaele Nevi ha ascoltato l'assessore Fernanda Cecchini in merito all'applicazione delle numerose misure previste dalla risoluzione sui danni all'agricoltura causati dalla fauna selvatica approvata dall'Assemblea legislativa nel marzo 2015 Sull'argomento sono svolti già due incontri con le associazioni agricole e venatorie da cui, ha spiegato il presidente Nevi è emerso che perdurano problemi e criticità per la cui esatta valutazione sarebbe necessario un report aggiornato e completo da parte della Giunta sui danni causati nelle diverse zone del territorio regionale sia alle automobili che all'agricoltura L'assessore Cecchini ha spiegato che la Regione ha modificato il sistema assicurativo riducendo i costi del 50% sono state attuate misure di dissuasione per evitare che cinghiale e caprioli attraversino le strade è stato rinviato alla prossima stagione venatoria il nuovo regolamento sulla caccia al cinghiale sono state sbloccate le autorizzazioni per nuove aziende faunistico-venatorie L'assessore ha anche annunciato di voler centralizzare la parte amministrativa degli ambiti territoriali di caccia dato che il loro numero non può essere modificato dalla Regione sarebbe infine in corso una valutazione sulla possibile attivazione di una filiera delle carni da selvaggina che potrebbe portare fondi da utilizzare anche per la copertura dei danni E nella stessa seduta del Comitato è stato ascoltato anche l'assessore Chianella sulla situazione della società partecipata regionale Umbria TPL e Mobilità S.P.A. Vediamo Dopo aver ascoltato i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e il Presidente del Consiglio di Amministrazione il Comitato per il Monitoraggio e la Vigilanza sull'Amministrazione Regionale presieduto da Raffaele Nevi ha concluso la fase delle audizioni circa la situazione della società partecipata regionale Umbria TPL e Mobilità con l'assessore regionale ai trasporti Giuseppe Chianella All'assessore è stato sostanzialmente chiesto come la Giunta intende operare per l'attuazione della legge regionale che prevede l'Agenzia Unica per la Mobilità il futuro della ex Ferrovia Centrale Umbra e infine chiarimenti sul recupero del credito che vanta la Regione dopo il prestito concesso di 17 milioni di euro all'azienda Per quanto attiene all'istituzione dell'Agenzia Chianella ha spiegato che poiché due membri del Consiglio di Amministrazione di Umbria TPL e Mobilità si sono dimessi è stata posticipata al prossimo mese di settembre l'Assemblea che doveva tenersi dentro la fine di questo mese in quella sede ha assicurato l'Assessore con il reintegro del CDA si potrà operare in piena efficienza entrando poi nel merito della ex Ferrovia Centrale Umbra l'Assessore ha detto che è stato definito con rete ferroviaria italiana un protocollo d'intesa che prevede il passaggio dell'infrastruttura in concessione e gestione per cinque anni fino al 2022 il trasferimento dovrebbe essere attuato dal prossimo gennaio 2017 il protocollo prevede l'impegno da parte del Ministero delle Infrastrutture nella prima fase di concessione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria utili ad iniziare dalla tratta attualmente chiusa Umbertide città di Castello nella seconda fase dopo il 2022 è previsto il trasferimento delle infrastrutture allo Stato quindi alla rete nazionale affinché possa essere resa attraverso interventi straordinari interoperabile cioè utilizzabile anche da Trenitalia per i propri collegamenti per quanto attiene infine al prestito concesso dalla regione all'azienda di 17 milioni di euro Chianella ha ricordato che ad oggi l'azienda ha restituito 5 milioni stiamo verificando alcune partite in dare ed avere tra regione e azienda ha aggiunto l'assessore certi di arrivare a definizione della situazione entro i termini inizialmente previsti per la restituzione del prestito Ferdinando Cesaroni la strategia del ragno vicende e opere in Umbria la presentazione del libro ha avuto luogo a Palazzo Cesaroni alla presenza della Presidente dell'Assemblea Legislativa Donatella Porsi il servizio vuole essere un atto di omaggio a un protagonista del suo tempo ma anche un contributo alla ricomposizione di alcune vicende della storia dell'Umbria a cavallo tra fine 800 e primi del 900 il libro Ferdinando Cesaroni la strategia del ragno vicende e opere in Umbria che è stato presentato a Perugia nella Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni sede dell'Assemblea Legislativa regionale dopo i saluti della Presidente dell'Assemblea Legislativa Donatella Porsi e dell'assessore alla cultura del Comune di Perugia Maria Teresa Severini i contenuti del libro sono stati illustrati dalla curatore Luciano Giacchè dalla soprintendente archivistico e bibliografico dell'Umbria e delle Marche Mario Squadroni e da Erminia Irace docente di storia moderna all'Università di Perugia nel suo saluto iniziale la Presidente dell'Assemblea Legislativa Donatella Porsi ha evidenziato come Ferdinando Cesaroni abbia giocato un ruolo di primissimo piano nella vita economica politica e sociale dell'Italia e in particolare della nostra Umbria ma è stato tuttavia vittima ha detto la Presidente Porsi di una profonda cancellazione della memoria oggi l'accurato e meticoloso lavoro di ricerca e documentazione di Luciano Giacchè e Mario Squadroni è realizzato da studiosi ed esperti di grande valore fa emergere dall'oblio la figura di Ferdinando Cesaroni protagonista delle vicende Umbre e anche del contesto in cui si è sviluppata la sua multiforme attività e per questa edizione è tutto vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa regionale consiglio.regione.umbria.it e su Youtube grazie per averci seguito appuntamento alla prossima settimana arrivederci prosti condividet